Buongiorno Di Cagliereza Questo funziona bene Morio Morio ho sempre lavorato bene Ma che leggerino E' il 3 Quello è stato solido Non è vero che questo Perché i popoli sono vendute Le RF7 sono vendute Le RF7 secondo me Siamo una tratta attiva Ci sono qua Vuoi dire che Sono belle Sono impegnative Nel senso che Sono una bella stanza Però Sono poco affaticanti Anche se ho 05 Comunque Vado in una favola non è nessuno come a volte se ne ascoltiamo io ho le RF82 sono quelle sopra quelle sopra? di qua sono quelle sopra se vuoi ascoltarla io non ho anche le persone del genere in me non ti canale forse andavo in un altro vero buono, ok, allora si, carichi e dopo facciamo i conti se la macchina colava una comoda si, e guarda di fronte lì operaio buongiorno butto una partenza difficile oggi tutte le cose stavo per fare un disegnante diplomatico ascolta Cristiano sai che quel cd con la retro company io l'avevo avuto ma l'avevo una versione c'è la mia compilation da anche si perché non c'era anche qua come adesso quando torno tu la porti qui la metti via si, quello è qua questa è la versione A quella lì guarda lì non ti sbagli mai su quella marca lì almeno i modelli fino a quando li costruiva ancora il titolare che usava la tecnologia di marchiopera quindi ora non c'è uno che vada male retro company mi piace come suolo come cosa l'ascolti a casa? allora io avevo detto mi portavo questo sapendo che forse non riuscivate nel caso io uso il vittorio adesso e avrei il vittorio io io dovrò colare anche quello però sto cercando prima di scegliere il diffusore quindi non mi volpe da tutto seguire voglio la metti via su che se è possibile allora intanto ti faccio iniziare con un cd così fai ascolti qua ti faccio in un cd quel cuore se abbiamo tempo ti faccio tutto tutto intanto iniziamo così ok non so non mi limita cosa ti piace ma in realtà intanto punto che ti ascolto qualsiasi cosa quindi ma allora qua che succedono diciamo quelle più dove vuoi guarda c'è un cd non ci dì si chistiano conosceteci come è andato che ci diamo perché un cd di una compilation l'ho fatto io di test di test race race no le carte le tue sparete non si vedono bene adesso e lo siamo così ma tu farai quello che vuoi o no o no o no ma i piaccidenti sopra non fa io siamo ascoltati l'Hitkin Park bello c'è un po' di genza anche beh non è facciamo un altro questo ma sì questi sono tutti per esserci lì giù su no non è anche da venire qua ma giacassette si no bisogna la sorgente principale che è il venire andiamo a aspettare da venire perché come interessi qualcosa che riesca a pilotarle bene adesso magari facciamo quelle bv l'agio che sono belle dure io arrivo da bergamo sono nato anche lì in zona da me vedrei l'ultima guarda se non mi vuole è difficile però non mi vuole che ha il suo bv 802 cosa gli facciamo provare con un giocatore che sta chiamando un giocatore chi vuole la corrente capito l'unico 100 se ti piacciono hai capito perché se ti ritorniamo attaccare una cosa che non ti non ti squinfera come budget le cose che mi avevi mandato via mail mi sapevi che non c'è più un tubo io ci eravamo sentiti prima di Natale sono Andrea di Bergen cosa ti avevo mandato allora mi avevi mandato un crick piccolino 80 watt un gestione invece da 30 kg 160 watt che mi ricordo che marca era un audio research forse già forse l'iron bravo venduto mi avevi mandato un sansui un partner che mi piaceva tantissimo però quello lì forse è uno sansui e un partner simile sempre su quello stile anni 90 sì un coso però venduto anche quello ok poi non so io a me potrebbe essere una macchina da sansui musicale ma poi so anche di come che per favore ricca sempre che forse è troppo pretenzioso perché non basta niente di capire in moda facile allora vuoi stare se ho capito bene su un budget diciamo più morigerato che tipo lì eh oh ragazzi adesso interessante che abbia della corrente c'è quello lì ok quello lì sotto è quello sansui che è la corrente io allora ci ho parlato qui un po' anche di cose usate e poi vabbè in base a quello io posso arrivare comunque a metterci anche un po' di differenza anche macchine che magari sei dai 1500 in giù diciamo come faccio le prezze ma perché mi piace il suono del vintage allora il fatto cos'è che a me esteticamente i vintage piacciono tantissimo perché a me tutta quella roba lì mi piace veramente tanto il fatto appunto è che non avendo mai fatto un paragone ho ascoltato un paragone con il nuovo di invece non lo fa quando uno inizia quando uno inizia che deve prendere almeno tre pezzi di una catena devi partire devi fare batteggiare un inizio allora il primo che prendi è quello che ti piace di più magari esteticamente quello che ti serve più musicale o quello che ha il budget tra il quale poi quello lì è il primo e sarà il primo non sarà l'ultimo quindi a un certo punto tu dici io vabbè comincio perché poi quando cominci a ascoltare anche se ho certo ci dia amplificatore casse o vinile amplificatore quando cominci a ascoltare dopo capisci cosa ti dà ok basta che ci metta un amplificatore che ha un budget in cui posso arrivare che mi piace abbastanza che muova parto da quello poi poi poterà essere già la migliore scelta o la peggiore però finché non parti cioè per esempio se devi comprare un NAD da 200 euro 250 euro o un vintage magari se sono 200 completamente diverse la cifra è la stessa però io ad esempio a me i NAD non piacciono però non so ah quello dopo lo si scopre ti piace tanto questo su e non lo so gli anni 90 così non mi fanno morire non mi fanno grazie ciao non mi hai mai sentito non mi per culo niente sei a posto su? a posto grazie 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 ciao grazie 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 fate un giro dove volete se avete bisogno vedete qualche imparato da 20 euro 5 mila si tratta di trovare poi ce ne sono alcune che sono sempre quelle che di solito vengono montate che quindi uno può per abitudine di vedere sempre perché vanno bene c'è molti quelle perché va bene però ce ne sono tante la grado è un'ottima testina se potrebbe anche aprire non sono bene però scusami è rimasto di fermo per un po' se non ha problemi se non ha cose finché non li ha è stata usata pochissimo affinché non li ha lui era un fattore soprattutto in musica classica io ho due cose secondo me da quello che ho visto interessante per te uno è quello lì che ha un 100 watt possiamo anche ascoltare volentieri oppure il 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 bluetooth e quant'altro però se passiamo un po più su siamo a 1300 euro più o meno comunque rispetto a quello che volevo aggiungere io ci siamo anche se vuoi rimetti qua e poi di confronti un attimo capito un po di prove capito magari sulle viev così sì perché mi interessa appunto che quelle che si sono vecchie e cattive sai bene lo so quello che ho fatto che lo raccoltano dimmi pure già di quanto ci ha chiamato ieri si è sempre vicino se c'è anche se tu mettiamo dopo le situazioni ok musica che musica ascoltiamo e io ascolto musica bella cosa che suoni provo a guardare ma se c'è un diar stress va bene c'è un via col cd questo qua o questo qua rosso ah il ritupolo del punto in giro ecco che non le ho sposto perché mi ricordano che è fortissimo no vabbè non le ho posto signore no vabbè si comunica non si comunica ma se no li mettiamo entrambi abbiamo la funzione vabbè ci sono i soldi di introi che li stanno a ascoltare tutti li tirano sempre fuori allora no vabbè non c'è anche io lo scordo fa tanto mi fa ascoltare al signore abbiamo detto l'integrato ah quello là il fortissimo e se non ti interessa il telecomando ti farei ascoltare anche quello lì e l'essere devi dire tutto hai un po' fatto l'orecchio ma quello là ah c'è l'indiana line sentiamo su l'indiana line hai le tesi 561 no le nota ah le nota allora io direi che fa così visto che hai l'orecchio su queste qua non suona che gran cassa hai capito? adesso qual è che suonava? le miei così fai il confronto sempre con le stesse case se no dovremmo ripartire no 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 allora questo qua ha più caratteristiche da DJ no 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 Quanto costruito? Noi li abbiamo usati quindi vuole essere senza cittadini. Allora non ce l'abbiamo. Capitane, signoramese, vuoi. Qui è un Disney però. Ah, va bene, va bene. Però non è che vogliono essere resi, no. Ho visto questa linea nuova qua delle altre compagnie. Vuoi che te lo metti qua? Ah, diventando un paio che vuole guardar bene. Voi risposto. Con qualcosa di diversa, con quello che vuole ascoltarli. Si, con quello che vuole ascoltarli. Allora, vuoi che con che amplificatore le pilota resta? Per dire. Ma comunque, Rogers, Juno. Perché stavo pensando qualcosa per chiararlo. Queste cose sono colorbolari. Quelle... Quelle di Annaline lì, color legno. Quello lì? Quello è un sindacato? Ah, no, niente. Quello è un sindacato. Aspetta che ci vuole perché erano di là. Non diceva... Che è solo roba greggia. Immaginiamo. Ma c'era anche una bella tecnica però. Ma te... Che la compterai? Oh! È lì. Nella scatola del bar c'era anche il suo cavo d'alimentazione? Si. C'era. C'era anche il cavo. Alimentazione internet, le antenne wifi. Ok. C'era tutto. Il comando e il manuale. Va bene. Teo, ho visto? Quando... Il video... Dai, te... Teo! Cominciamo e che no! Jackie! Siamo qui con Jackie! Cominciamo e che no! Oh, stascia di fatto! Piace con fuori. No, no! Non ho. E in più di mandi, qui, il tiveta o sti. Ma questo qua? Sai conferire? Sì! Sì! Ma perché? Sì! C'è un altro cuore Dice un altro cuore Arriverà Arriverà Sì ma l'automatica non c'è più Ora c'è più Era di nicchia Ma perché di nicchia? Vabbadio è una figliata Allora Walter Cosa vogliamo fare? Facciamo Facciamo Tu sei sicuro Hai bisogno di un Gerardischi? Non ce l'ha bisogno Ti ritiro direttamente quello lì Scusa Spendi meno Cosa hai pagato questo qua? Guarda questo qua E' un paio Considere però Sono tutte nuove Sì Sono 400 euro Vedi Queste le devi ruotare Perché ne avevo due Sì? Uno era esagerato Un altro ce l'ho a casa i denti Era una coppia Quindi hanno la stessa età Sono 9 Questa è poi la seconda versione E' aumentata costa quasi 7 fischi Questa è qua adesso Ah ok Sono andata paura Poi ci sono due e basta Tu non uso la cuffia Non è per l'arte Sì capito No perché la gente Eh beh ma io quando ci arrivo con la camera Prima cosa cambia le varie Perché ti pensi che quelle che vede a lui I finali le tengo Sono delle PS1 eh? No quelle sì Ma le drive? No ci sono i mullard pronte in ponze Questo è uno dei migliori 300b che esistono E' il VE di seconda serie Mi avevo visto 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 Mi sono anche litigato con un cliente Perché gli avevo metto un altro di sì Poi è venuto un altro Mi ha occupato subito Questo è il cassato Ve lo ricordo benissimo E allora sono presente Questo poi è un integrato Che lo puoi sapere come il finale Perché avendoci In due controlli qua Sì lo puoi usare anche come integrato Ma un'altra cosa te lo chiede Ma che sto schegge La Hong Kong Ecco appunto ecco Bravo vedi Guarda di che no Io qui diventavo scemo esatto Qui diventavo matto E... Vedi tutte quelle cose? Quelle... Sono le migliori Sono le mullard Tu considera Ah... Questo qua è pieno di valvole Solo... E c'aveva anche il tuo Quello lì Sì c'aveva anche quello lì Quello è un bestsello Cos'è questo qua Ce l'aveva sia con le L34 Che con le... E poi questo E poi lo sai con le afficate di questo Che è nativo 220 Cioè nasce per il mercato europeo Perché di solito ti trovi Sempre... Bravo Bravo Che... Cioè... Vuoi o non vuoi un po' perde eh C'è niente da fare Molto qua per ilEmbito Iscriviti e On 28 Grazie a tutti.